Paolo Nicolai, uno degli azzurri del Bic, che sarà tra i protagonisti del Grand Slam di Roma. Non vogliamo parlare tanto di pallavolo sulla sabbia, della sua rincorsa alla qualificazione olimpica, quanto della sua vita al di fuori del campo. Sei tifoso? Sì, tifo Inter. Purtroppo ne parlo quest'anno, ma non c'è stata una grande stagione, ma torneremo sicuro. Tifoso dell'Inter come il presidente Magri, te l'ha mai detto? No, non lo sapevo, però sono felice di questa scelta comune. Come nasce tu, toscano tifoso dell'Inter? Io, praticamente, avendo un fratello maggiore, tifoso dell'Inter, quando sono nato sono stato indirizzato verso questa strada. Senti un po', il momento più bello da tifoso? La vittoria della Champions e l'anno del triplete. E se dovessi paragonare questo triplete con qualcosa di Bic? No, niente di paragonabile. Quando gioco io sono altre emozioni, altre sensazioni. Però se riusciamo a unire entrambe le cose, le mie vittorie, la vittoria dell'Inter, va tutto perfetto. Grazie. 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 Grazie.